In zona rossa è possibile fare sport, adesso è più chiaro, ma un anno fa in molti si sono imbattuti in delle contravvenzioni e qualcuno ha fatto ricorso al giudice di pace ottenendo ragione. Il 5 aprile 2020 un runner leccese venne multato a poche centinaia di metri da casa. In quella circostanza l'uomo provò a spiegare che stava facendo joking, ma gli agenti furono inflessibili sanzionandolo con 400 euro. Tramite legale decise di presentare memoria difensiva al prefetto, in base alla possibilità tuttora presente di svolgere individualmente attività motorie in prossimità della propria abitazione. Anche la superiore autorità non prese in considerazione le motivazioni, ma il cittadino non si arrese proponendo ricorso innanzi al giudice di pace di Lecce, che con sentenza ha attribuito credibilità alla versione fornita. Si può svolgere dunque individualmente attività motorie passeggiate all'aperto in prossimità della propria abitazione, ovviamente mantenendo il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di mascherina. Consentite anche le corsette, ciclismo o altre attività simili, purché non in compagnia.